Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale doscana e sulla FIPILI. In A1 per lavori nelle due notti di lunedì 4 luglio e martedì 5 sarà chiuso lo svincolo di Valdarno in entrata verso Roma in orario 22.6. Spostandoci sulla FIPILI sono possibili disagi per personale sulla strada per lavori tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. Stessa cosa sempre verso Livorno tra Montovoli-Valdarno e Ponte d'Era Est. Per la viabilità cittadina a Firenze fino al 15 settembre in Viale Amendola resterà chiuso il controviale tra Via Giotto e il numero civico 48. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!